Ancora buona giornata a tutti da parte di Marco Revello, ben ritornati. Questa è la seconda edizione del TG Rassegna Stampa di questo 13 giugno 2023. 13 giugno è una data che ricordiamo perché oggi si festeggia un santo molto importante nella storia della Chiesa italiana. E non solo, stiamo parlando di Sant'Antonio da Padova. Oggi infatti la Chiesa ricorda e festeggia questo francescano che in realtà nacque a Lisbona nel 1195. E poi chiaramente la sua storia che si intreccia con l'Italia, in particolare con Padova dove viene venerato. Lì si chiama il santo, proprio il santo per antonomasia, è proprio lui. E infatti vediamo la basilica di Sant'Antonio da Padova, basilica che è pontificia minore tra l'altro. E poi ancora Santa Felicola di Roma martire, Beato Gerardo di Claverivaux e poi ancora Sant'Rifiglio di Leucosia o Leucosia, Beato Achilleo o Sant'Achilla vescovo di Alessandria e Santi Agostino Panvetiu e Nicolao Biuviette martiri, Sant'Aventino l'Eremita, San Ceteo di Amiterno, Sant'Eulogio, San Fandila di Cordova e Beata Marianna Biernaca e San Ramberto martiri, poi ancora San Salmodio o Salmodio e Beata, anzi Santa Aleide di Scharbrecht. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono. I francescani sono sicuramente in festa quest'oggi per Sant'Antonio, c'è anche una bellissima chiesa a lui dedicata a questo santuario francescano a Chiavari, quindi festa un po' per tutti, poi le tradizioni legate anche a questi festeggiamenti che sono tante e auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile, a coloro che oggi ricordano una lieta ricorrenza e un anniversario o che in questo 13 di giugno hanno appunto una data particolare, perché sono nati, quindi auguri di buon compleanno. Allora, giornata caratterizzata, dicevo anche nella prima edizione, oggi dovremmo pensare ad andare al mare, perché coloro che sono già in vacanza, perché chiaramente sono finite le scuole, e quindi molte famiglie, molti ragazzi si concedono magari un periodo di tranquillità e di vacanza, si dovrebbe pensare ad andare al mare, insomma, invece oggi si deve pensare a proteggersi, a coprirsi un pochino, perché sono previste delle piogge. Delle piogge che, come abbiamo già ricordato nella prima edizione, non saranno estese a tutte le zone della Liguria, soprattutto, diciamo, non saranno omogenee, ma questo tipo di maltempo è un classico, diciamo, anche un po' dell'autunno, se vogliamo andare a vedere, perché c'è un'aria più fredda in quota che scatena delle cellule temporalesche, che quindi possono colpire alcune zone in maniera anche molto intensa. La Limet oggi prevede in particolare l'azione di queste cellule temporalesche nella mattinata sul Genovesato e Savonese. Tra Genova e Savona, in particolare, quindi Centroponente, si potrà avere la maggiore instabilità, con temporali che addirittura, ve lo cito da bollettino meteo della Limet, localmente potrebbero avere anche carattere di nubi fraggio, cioè quelle che noi volgarmente chiamiamo le bombe d'acqua. Quindi attenzione, perché appunto sarà un po', diciamo così, caratterizzato da questo tipo di tempo la mattinata, quindi cellule temporalesche, non una perturbazione diffusa e precipitazioni magari persistenti per tanta parte della giornata, però quando si scatenano queste cellule temporalesche c'è un po' da aver paura, con colpi di vento anche abbastanza forti, con mare mosso a Levante sul Golfo di Genova. Poi nel pomeriggio l'instabilità si trasferisce, in particolare sulle zone interne della nostra regione, quindi tutto l'arco appenninico. Sulla costa avremo momenti alternati, quindi momenti asciutti, momenti di pioggia, localmente anche abbastanza intensa, però vedete che sul Tiguglio questa probabilità è molto meno alta e ci saranno invece le precipitazioni più tranquille, tra virgolette. Comunque bisogna tenere alta la guardia per gran parte della giornata, ve lo diciamo, perché così almeno è un periodo magari diverso dall'inverno e dall'autunno, quindi in questo periodo qualcuno può anche decidere di non uscire, di uscire poco, di uscire meno, insomma oggi calibriamo i nostri spostamenti anche a seconda di questa situazione che possiamo magari osservare meglio attraverso i radar meteorologici che sono presenti un po' su tutte le piattaforme, tutte le app dedicate al meteo, quindi possiamo andarle a vedere. Per quanto riguarda le temperature notturne, che dire, questa notte forse è stata un po' più fresca delle altre, questa giornata sarà più fresca delle altre perché non andremo al di sopra dei 24 gradi, almeno queste sono le previsioni, mentre invece ieri, come abbiamo detto, si sono aggiunti localmente anche i 30 gradi. Le temperature minime della notte, Prato e La Cipolla 9 gradi, Rocca d'Aveto 10, 11 gradi e mezzo a Rezzo Aglio, 11 gradi e 9 a Cabanni di Rezzo Aglio, in Valle Sturla 16 gradi e 2 a Belpiano, 15 gradi e 9 a San Sirofoce, 17 gradi e 8 invece in Val Graveglia a Pontori, mentre invece in Val Fontana Buona a Favale di Malvaro 16 gradi e 2, Pezzonasca di Mocono esistessa temperatura, 17 e 4 a Pian dei Preti di Tribogna, 18 e 2 a Villa Oneto di San Colombano, scendendo sulla costa, 20 gradi e 6 a Santa Margherita, 19 e 7 a Rapallo, sul porto di Chiavari 19.8, 18.1 al porto di Lavagna, non pervenuta la temperatura di Sesto Elevante, 20 gradi e 6 a Moneglia, località La Secca. Passando invece al Golfo Paradiso, Ruta di Camogli 19 gradi e 3, Nervi 21 gradi e 2, nella zona interna di Genova Marassi 19 gradi e 2, mentre invece nel Ponente a Pra 20 gradi e 3, a Savona 18 gradi e 4, ad Imperia 19 gradi, a Ventimiglia 20 gradi e mezzo, alla Spezia 18 gradi e 9, quindi vediamo che le temperature minime sono un po' in linea con quelle degli ultimi giorni, ma direi anche abbastanza in linea con le temperature attese, con la media stagionale del periodo, perché ormai siamo non proprio d'estate dal punto di vista astronomico, ma mancano pochi giorni, e dal punto di vista meteorologico lo dovremmo già essere da 13 giorni, quindi temperature che comunque sono non troppo basse, ma questo è nella logica del periodo che stiamo vivendo. Adesso invece andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, che naturalmente oggi, non solo in Italia, ma anche un po' nel mondo, sono dominate da una figura, quella di Silvio Berlusconi, ieri la notizia della morte, ieri mattina, il cordoglio in tutta Italia, ma anche appunto dicevo all'estero, perché è un personaggio chiaramente molto conosciuto anche lì, perché è stato per diverse volte presidente del Consiglio, ma anche presidente del Milan, quindi insomma il popolo sportivo europeo lo conosceva molto bene, e oggi è a venire titola Addio a Berlusconi, leader che ha innovato e diviso. Questo è un po' diciamo l'invotiv di tutti i giornali, sia di centro che di destra che di sinistra, perché oggi si riconosce a Silvio Berlusconi questa caratteristica, cioè di aver caratterizzato proprio un trentennio, da quando lui è disceso in campo, era il 94, quindi siamo nel 2023, quindi quasi 30 anni fa, e appunto in questi trent'anni ha monopolizzato l'azione sia divisiva o meno, ma ha sicuramente caratterizzato questo periodo politico e diciamo anche un po' di costume. L'impegno per il Paese, la libertà, ma anche per se stesso, ha segnato un'era tra svolte e cadute, domani i funerali in Duomo e lutto nazionale per la giornata appunto del 14 di giugno, le condoglianze arrivate anche dal Papa e dal Presidente della CEI, Cardinale Zuppi, l'eredità impossibile, l'editoriale, l'Italia prima e dopo Berlusconi, sicuramente che la pensiamo in una maniera o nell'altra, Silvio Berlusconi è un personaggio unico nel panorama non solo politico, ma anche imprenditoriale italiano, cioè non ci ricordiamo un imprenditore che è iniziato così da alcune attività legate all'edilizia, si è arrivato ai vertici poi di tante altre attività, finché è stato soltanto imprenditore, ha avuto davvero sempre grandi successi. E poi è chiaro, ci sono le varie sfaccettature, serie infinita di processi, tutte assoluzioni tranne quella che costò il Senato, con la legge Severino, poi dal Super Milan al Monza, il Presidente che voleva vincere tutti gli stadi. Il non lascito del Cavaliere è un capovolgimento, l'analisi di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, l'autobiografia di una parte del Paese e l'analisi di Andrea Lavazza. Poi ci sono le altre notizie, lo scandalo del lavoro minorile, il rapporto dell'Unicef dice che ci sono state 74 vittime in 5 anni, in Italia, il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha questi ragazzi negato il futuro, anche mortale, quindi attenzione perché il lavoro può essere anche letale anche in Italia per i minori. E poi Cata non si trova persa nell'ex hotel della disperazione, la bambina scomparsa a Firenze, sappiamo appunto di questa situazione, ne abbiamo già anche parlato ieri, e la mamma è convinta che appunto ci sia questa bambina, sia stata rapita, continuano le ricerche, comunque controlli e sopralluoghi dei carabinieri anche con unità cinofile in uno stabile vicino all'albergo, sempre nel quartiere di Novoli a Firenze. Ieri nel pomeriggio poi la donna è stata portata via perché appunto ha ingerito della candeggina. Altro allagamento per fermare Kiev, la guerra in Ucraina, abbiamo visto ieri appunto le notizie che arrivavano dall'Ucraina, oggi ci sono state, anzi nella notte, ci sono state bombe su Krivì e appunto ci sono state anche delle vittime, tre morti e 25 feriti, e da questi bombardamenti avvenuti nella notte, il Nobel Mukwege dice il mio Congo nel caos per predare le risorse, e continua l'adegenza del Papa al Gemelli, Francesco si riprende, la gente prega con lui. Prima pagina dedicata a Silvio Berlusconi anche per il secolo XIX, anzi, il secolo XIX gli tributa tutta la prima pagina senza altre notizie, travenire, aveva altri spazi, invece il secolo fa una prima pagina monotematica, una storia italiana. Silvio Berlusconi, 1936-2023, il destino di innovare e di dividere l'editoriale del direttore del secolo Luca Obaldeschi, Liguria, un amore difficile dalle serate di Portofino alle scivolate di Genova, con lui finisce la Seconda Repubblica, lo dice Marcello Sorgi, il trentennio del conflitto di interessi e il commento di Ugo Magri, e poi l'intervista al presidente della regione Totti, tutto cominciò con un autografo per mia mamma, sappiamo che Totti ha lavorato per Berlusconi nella redazione di Italia 1, ma poi anche, è stato un po' il suo delfino politico, fino poi allo strappo di alcuni anni fa. Le battute con Burlando, una volta mi disse, se vuoi ti regalo casini, e poi potere personale come valore, ecco la sua lezione della politica secondo Maurizio Maggiani, e poi ancora, ora si apre il dilemma del centro, certamente Forza Italia è il partito più personalista della storia della politica italiana, perché senza Silvio Berlusconi non si immagina una Forza Italia, e adesso si vedrà che cosa succede. Oggi il secolo chiaramente dà anche altre notizie all'interno, però sono soprattutto quelle legate a Silvio Berlusconi, anche nelle pagine del Levante. Infatti vediamo un Berlusconi a passeggio per il molo di Portofino, insieme alla sua famiglia, questa è l'ultima immagine scattata a Portofino, era praticamente quasi un anno fa, 28 aprile, anzi più o più di un anno fa, 28 aprile 2022, il giorno del compleanno di Pier Silvio, e appunto papà Silvio gli ha fatto questa visita, vediamo qua Pier Silvio con la famiglia. E la passeggiata sul lungomare, oggi chiaramente è una giornata di ricordi anche a Portofino, il suo grande amico Puni Luigi Miroli, ma anche Vince, un altro amico appunto di Vincenzo Gazzolo, che lo hanno appunto sempre visto insieme. L'amicizia nacque quando Berlusconi non era ancora il Berlusconi che conosciamo, erano gli anni 60, era un ragazzino, certamente non uno qualunque, ma nemmeno diciamo il personaggio che poi è diventato. Quindi Portofino lo ha sempre accolto, lo ha sempre amato, Portofino lo amerà per sempre, il borgo in lutto per l'ex premier, Via Cava, lo avevo sentito al telefono, era ottimista, l'ex sindaco di Santa Margherita Bottino, avversario e amico. Un anno fa è il ritorno per la festa del figlio, l'ultima uscita ufficiale in piazzetta. Ieri a Portofino sono andate anche le nostre telecamere, guidate da Mattia Prestileo, che oggi è con noi in regia, alla parte tecnica e adesso appunto agevolerà il servizio da lui filmato e firmato invece da Andrea Capitani. Vediamo il ricordo di Portofino per Silvio Berlusconi. Portofino, ma non solo tutto il Tiguglio, piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi. Davanti al castello di Paraggi, in molti oggi si fermeranno per dedicare un ultimo pensiero all'ex presidente del Consiglio, scomparso questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, all'età di 86 anni. Era un filo doppio e molto stretto quello che legava Berlusconi al borgo, fin dagli anni 70, quando aveva scelto la piazzetta come suo buon ritiro dagli impegni imprenditoriali e politici, prima nella villa dell'Olivetta, poi nel castello di Paraggi. Un grande comunicatore, insomma la presenza sua in Portofino, che lui amava questo paese, quando veniva qua noi siamo cresciuti un po' con il mito di Portofino, perché insomma tutto il paese era impazzivo per lui. Io ho dei bei ricordi, ho avuto la fortuna di poter parlare col Cavaliere ultimamente, andarci anche a colazione insieme, un grande uomo che pensava sempre, insomma riusciva a pensare alle cose che succedevano 10-20 anni prima degli altri. E cosa dire, ha sempre vissuto lui perché aveva la passione per l'Italia, voleva salvare questo paese, l'ha salvato, l'ha portato a livelli altissimi, poteva anche starsene un po' più tranquillo, invece no, aveva sempre il cuore e il bene del nostro paese. Mi aveva sempre detto di amministrare col cuore, perché quando si segue il cuore, come ha fatto lui nelle cose, i risultati sono sempre risultati positivi. Abbiamo una giornata triste, però pensiamo che incontra i suoi amici storici di Portofino, che l'hanno preceduto anni fa, può darsi che sicuramente si ritroveranno lassù, col Vincio e il Punni. Credo che riprenderanno quello che hanno lasciato qua. Non solo il sindaco di Portofino lo ricorda, la scomparsa del presidente Berlusconi rappresenta una perdita incolmabile per il nostro paese, scrive in una nota al sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, nonché coordinatore regionale di Forza Italia. La sua passione, i suoi ideali di libertà, determinazione e impegno rimarranno per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Parole di ricordo anche da parte del sindaco di Santa Margherita Ligure. Siamo veramente molto dispiaciuti di questo avvenimento perché era una persona che aveva a cuore il nostro territorio, lui come poi adesso il figlio con i suoi familiari, quindi è stato un frequentatore, è stato un estimatore di Santa Margherita, del Golfo di Guglio, di Portofino e poi era una persona che ha segnato un'epoca della storia italiana per cui senza altro, come dire, questa notizia è una notizia che ci dispiace profondamente. E allora chiudiamo questa lunga prima pagina dedicata a Silvio Berlusconi ma ancora se ne parlerà molto oggi e domani giorno del luto nazionale e delle esequie in Duomo a Milano appunto presedute dall'Arcivescovo e andiamo invece a parlare di un luto che ha colpito il nostro territorio Rinaldo aveva 85 anni, addio a Rissetto ai funerali giovedì alle 10 nella Basilica di Santo Stefano Rinaldo Rissetto per anni è stato dirigente della Fincantiere di Riva a Sestri Levante ha guidato a lungo il settore navale e le operazioni di Varo fu protagonista di una svolta nei rapporti con i dipendenti che qua lo vediamo anche durante una partita del 1971 e l'ultimo in piedi a destra e ripetiamo i funerali saranno celebrati giovedì dopo domani alle 10 nella chiesa di Santo Stefano nella Basilica di Lavagna e poi ancora la scossa di terremoto che venne andato ieri mattina in Valle Epicentro vicino Rezzo Aglio alle 6.45 non forte ma è stata preoccupazione soprattutto tra gli abitanti del borgo della Val Daveto nessuna segnalazione di danni a persone o a immobili dopo l'episodio sismico ricordiamo che 2,4 è una magnitudo che non può provocare grandi problematiche poi incendio alla Pascoli a Rapallo la scuola appunto resta interdetto il locale del magazzino però il resto dello stabile può essere abitato può essere frequentato verso il ritorno alla normalità chiaramente ora si indaga sulle cause ma quasi sicuramente si è trattato di un cortocircuito proprio in questo locale del magazzino notizia in breve sempre dal secolo dal Tiguglio a Faenza in aiuto degli alluvionati chiama a VPC Liguria Associazione che è appunto l'associazione volontaria di protezione civile Tiguglio e Associazione Onlus Andrea Lazzarotto e quindi caricato un intero furgone di genere di prima necessità che adesso ha viaggiato alla volta della Romagna via il cipresso dal sagrato di Rapallo deve essere tagliato davanti alla chiesa di San Francesco il sindaco Bagnasco ricevuto alla perizia ha firmato ieri l'ordinanza per tagliare questo albero andiamo ancora avanti sempre dal secolo XIX la crisi della pesca tra rincari e regole le piccole imprese cambiano pelle Santa Margherita il settore prova a reagire e si aggancia anche al turismo ormai da qualche anno c'è questa agripesca questa voglia di traslare alla pesca quello che succede in agricoltura con gli agriturismi Regione il vicepresidente Piana annuncia fondi a sostegno mangiare i prodotti del mare storia, cultura e benessere chiaramente la storia della Liguria è legata a doppio filo con la storia dei pescatori e per tanti anni è stato il settore diciamo di traino della nostra economia prima dell'avvento del turismo inaugurato l'info point al mercato Sant'Erasmo i segreti del pescato locale cerimonia con le autorità presenta chiaramente il sindaco di Santa Margherita che abbiamo visto anche intervistato prima sulla figura di Berlusconi Paolo Donadoni e questo info point rimarrà per tutta l'estate attivo proprio per informare anche sulla attività ittica del nostro territorio che è una, come dicevo, delle caratteristiche adesso chiaramente non più principale perché il turismo è di gran lunga più importante però è chiaro che rimane sempre storicamente un settore caro ai Liguri e Tigullini in particolare poi insomma il porto di Santa Margherita e anche il porto di Pescherecci torna alla Corrierina del Mare sempre a Santa Margherita Ligure per periferire spiagge quindi la Corrierina che unisce la zona più profonda diciamo San Siro la zona più popolata con le spiagge ed è una Corrierina messa a disposizione gratuitamente dal Comune ai San Margheritesi e naturalmente agli ospiti fino a settembre il servizio sarà garantito gratuitamente da AMT e Comune di Santa Margherita Ligure mentre invece a Rezzo Aglio si sperimenta il bus a chiamata primo giorno con la novità in vallata il bus è comparso ieri mattina nel centro del paese potrà essere prenotato con corse che possono essere chiaramente programmate con l'utenza è un servizio che è già stato sperimentato in altre zone con grande successo passiamo invece ad una brutta brutta notizia di Cronaca schiacciato dal trattore a Sestri Levante vittima un pensionato di 64 anni il suo nome era Enzo Gandolfo è stato travolto dal cassone che aveva alzato per eseguire dei lavori di manutenzione il tragico incidente sulle alture della città la notizia si è poi diramata ieri mattina in località Cascine di sopra la vittima Enzo Gandolfo pensionato di 64 anni a trovare il corpo purtroppo è stata anche la moglie vani soccorsi l'incidente è stato fatale non ci sono state altre possibilità nemmeno il ricorso al pronto soccorso perché appunto l'uomo è già arrivato senza vita e ora la stalma si trova proprio all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova musica invece per Andrea De Mattei il ragazzino morto durante un incidente in Canoa il 12 gennaio nel fiume Entella poco sotto appunto il ponte della Maddalena e appunto per lui si è dedicata della musica è un progetto artistico ieri il comitato nato per ricordare lo studente appunto si è radunato nei pressi del ponte della Maddalena lungo la sponta di Chiavari il comitato per Andrea ha organizzato a pochi metri dal luogo di incidente un'iniziativa di musica grazie alla partecipazione di alcuni compagni di scuola dell'adolescente appassionati anche loro di musica e di teatro presentato anche un nuovo progetto realizzato in collaborazione con l'innata di Ambrosi l'istituto superiore che Andrea frequentava anche se da pochi mesi il contesto il bello dello sport realizzerà elaborati pittorici creati dagli studenti vediamo un momento dell'evento di ieri e poi questa sera invece inizia l'attività amministrativa della nuova giunta del nuovo consiglio comunale di Sestri Levante quello nato dalle elezioni dello scorso mese ricordate il primo turno il 14 e 15 giugno e poi il ballottaggio una settimana due settimane dopo prima riunione della giunta un focus sull'organizzazione questa sera alle 21 debutta il nuovo consiglio comunale quindi facce nuove facce invece ritrovate all'interno del parlamentino Sestrese per il sindaco Solinas e i suoi assessori appena nominati un incontro per mettere in rilievo le linee di comportamento e l'operatività della squadra e ancora sempre dal secolo XIX di oggi esercitazione sul Rupinaro più sirene e potenziate nuovo test del comune contro il rischio idraulico lunedì prossimo quindi tra sei giorni la mobilitazione generale dice appunto il responsabile la Nata aggiungiamo sistemi di allarme per estendere l'area urbana raggiunta qua vediamo un momento delle esercitazioni che si svolsero nei mesi precedenti allo studio con l'asle numero 4 anche un monitoraggio di chi vive al piano terra nei sotterranei perché è una zona magari in cui ci sono anche delle abitazioni al di sotto dell'asse stradale pensiamo alla zona per esempio di Marina Giulia e tutto il bacino appunto intorno al Rupinaro e quindi anche lì bisogna capire come far utilizzare questi locali e oggi una doppia notizia sul mondo della disabilità cioè da una parte la notizia che i vigili di Chiavari hanno emesso diverse multe per l'uso improprio del pass disabili i famosi furbetti del pass disabili cioè chi lo utilizza non avendone titolo magari falsificandolo oppure lo utilizza prestato da qualcun altro spostato di auto quindi è chiaro che questo pass deve essere utilizzato solo da coloro che necessitano perché si portano via posteggi importanti che vengono negati agli altri automobilisti proprio per le persone che davvero ne hanno bisogno non per chi vuole trovare il posteggio più facilmente quindi c'è stato nei mesi scorsi proprio una operazione che ha voluto portare alla luce questo uso distorto del cartellino e sono state elevate addirittura 80 contravvenzioni e adesso però c'è l'annuncio che domani aprirà la spiaggia per tutti cioè lo scorcio di spiaggia chiavarese che è dedicata alla disabilità dove si trovano le strutture che rendono possibile e agibile e agevole appunto l'andare al mare e andare alla spiaggia per le persone con disabilità mobile motoria quindi siamo particolarmente orgogliosi della nostra spiaggia accessibile commenta la vice sindaco Michela Canepa un'eccellenza a livello regionale comunque per fortuna non c'è solo Chiavari che ha questa spiaggia adebita ai disabili un po' quasi tutte le nostre località hanno un punto di spiaggia appunto dedicata a questa possibilità di rendere il mare appunto possibile per tutti e oggi c'è anche l'intervento dell'ex assessore ex consigliere comunale Emilio Cervini sui lavori che interessano i pennelli di Chiavari del litorale di Chiavari andiamo a leggere appunto l'articolo del secolo Cervini sui lavori ai nuovi pennelli di Chiavari ora cosa ne sarà dei massi speciali arrivati dalla Sicilia l'ex consigliere comunale osserva e commenta la prima parte dell'intervento compiuto per sostituire le scogliere parallele alcuni risultati sono sotto gli occhi di tutti è stata tolta finalmente la barriera di scogli eccetera quanto al mancato insabbiamento del porto e soprattutto alla proclamata difesa del litorale di vedere i risultati si spera appunto di vederne i risultati però a lasciare perplessi dice sono i massi provenienti dalla Sicilia estratti come ha spiegato il sindaco Messuti appunto di proprietà della ditta palermitana che si è giudicata l'appalto avrebbero dovuto completare la corrazza dei nuovi pennelli il cui scheletro era stato formato con gli scogli delle vecchie dighe ecco appunto tutto l'intervento che fine hanno fatto questi cioè che fine faranno anzi questi massi arrivati dalla Sicilia e poi invece una cena solidale per la croce verde chiavarese cena sotto le stelle il 28 giugno prossimo sul piazzale di Rì alle ore 20 in via Piacenza a Chiavari una festa naturalmente organizzata per raccogliere offerte da donare appunto all'attività beneremerita della croce verde chiavarese ci sono obbligazioni ci sono prenotazioni obbligatorie che devono arrivare entro domenica ci sono qua dei numeri di telefono ve ne do 1-335-444-581 quindi bisogna chiamare questi numeri per avere il posto assicurato a questa cena di beneficenza lo ricordiamo appunto in piazza Rì il 28 di giugno e visto che stiamo parlando di appuntamenti questa sera non dovete mancare l'appuntamento per ringraziare insieme al vescovo Monsignor De Vasini il signore per questi 33 anni di vita di Teleradio Pace abbiamo fatto il compleanno il 23 maggio quindi da poco e questa sera ci sarà la celebrazione che annualmente viene appunto celebrata nella chiesa quest'anno di Rupinaro alle ore 19 quindi l'appuntamento è per tutti perché tutti possano partecipare dal vivo coloro che non possono appunto venire alla chiesa di Rupinaro potranno seguire la celebrazione in diretta chiaramente dai nostri canali quindi su Telepace 1 al canale 12 oppure sui nostri social su Radio Pace insomma la possibilità di seguire la messa però ripeto per chi può farlo visto che le 19 è un orario in cui più o meno tutti abbiamo terminato il nostro lavoro c'è l'invito proprio di essere presenti anche perché subito dopo la messa ci sarà un momento conviviale per poter appunto condividere qualcosa insieme anche grazie agli uomini dei Ruinà e adesso invece andiamo a vedere gli altri appuntamenti per questa giornata nella nostra agenda appuntamenti in agenda per martedì 13 giugno anche quest'anno il parco dell'Aveto ha in programma alcune visite guidate alla riserva naturale orientata delle agorai gioiello naturalistico situato all'interno della foresta demaniale delle lame visitabile solo su autorizzazione rilasciata dai carabinieri forestali il punto di ritrovo con la guida del parco per ciascuna visita sarà sempre alle 9 al lago delle lame nel comune di rezzuaglio la prenotazione è obbligatoria per cercare di capire il quadro normativo che da anni disciplina la situazione dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi al di fuori dell'unione europea residenti in Italia il comitato per lo stato di diritto l'associazione nazionale magistrati la comunità di san benedetto al porto e la comunità di sant'egidio organizzano l'incontro immigrazione gli ultimi decreti legge effetti e conseguenze diversi di relatori che interverranno a partire a Genova per il festival Andersen a Sessi Levante la compagnia transadriatica porta in scena lo spettacolo Amelin vincitore del premio Eolo 2023 Teatro Ragazzi all'ex convento dell'Annunziata alle 17.30 con replica alle 19.30 per il calendario della seconda edizione del festival organistico internazionale di Genova arte e musica nelle chiese della Superba ideato e organizzato dall'associazione culturale Rapallo Musica alle 21 nella basilica di Nostra Signora Assunta Sessi Ponente concerto dell'organista olandese Ben Van Oosten prosegue la galleria Gianfrancesco Grasso di Chiavari la mostra personale dedicata all'artista danese Nes Lerpa pittore e ceramista l'esposizione curata dall'associazione tecnica mista in collaborazione con la società economica di Chiavari sarà visitabile fino al 25 giugno dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12 è proprio l'ultima pagina della cronaca locale del secolo XIX dedicata al Levante oggi Mario Dentone ricorda la figura di Sant'Antonio quel bambino rubato alla morte dai medici e poi ancora il giornale alla cooperativa Olivicoltori domani a Sestri Levante una nuova tappa dell'iniziativa al secolo XIX tra la gente sarà appunto alla cooperativa degli olivicoltori sestresi e poi ancora Parco Monti festa domenica all'area fitness di Sestri Levante l'appuntamento alle ore 18 per gli amici del parco e Lampi che ricorda invece il sacrificio dei partigiani alla Gatea a Varese Ligure l'appuntamento appunto è alle 10.30 per la partenza del corteo e la deposizione di un mazzo di fiori a ricordo di questo sacrificio adesso invece andiamo a parlare di meteo una giornata particolarmente perturbata quella che ci attende anche se al momento qua sul Levante è una normale giornata un po' nuvolosa però sul centro della regione sono attesi dei temporali anche di forte intensità temporali che poi possono comunque estendersi un po' a tutta la regione nel corso della giornata il pomeriggio in particolare ad essere colpite sono più le aree dell'entroterra quindi le aree appenniniche sulla costa avremo un'alternanza di momenti asciutti piccolissime schiarite ma proprio qualche occhiata di sole ma non si sa dove esattamente e poi della pioggia pioggia che potrà essere ancora carattere temporalesco in particolare sul centro della regione fino al Golfo Paradiso il Tiguglio potrà avere della pioggia ma appunto nel pomeriggio saranno precipitazioni meno intense quindi attenzione perché localmente i fenomeni possono essere anche a caratteri di nubifraggio dice la Limet venti da sud-est al mattino tra Tiguglio e Golfo di Genova possibili colpi di vento fenomeni di turbolenza durante appunto i temporali poi ruoterà a nord su Genovesato e Savonese moderato locali rinforzi al transito dell'inestabilità con mare mosso a Levante sul Golfo di Genova al mattino poco mosso altrove le temperature non andranno oltre 24 gradi quindi oggi sono date in calo domani 14 di giugno avremo una situazione caratterizzata da instabilità residua nel corso della notte e della prima mattina in particolare proprio sul Levante della nostra regione ma poi nel corso della giornata si avrà una diminuzione dei fenomeni e quindi anche della nuvolosità rimarrà instabilità pomeridiana soprattutto sui rilievi venti irregolari con qualche rinforzo in prossimità delle zone temporalesche da nord moderato su Capomele mare poco mosso temperature stazionari o domani in lieve recupero sulla costa io ringrazio ancora la regia di Mattia Prestileo questa mattina e naturalmente coloro che ci hanno seguito e che seguiranno anche la prossima edizione del Tg di Telepace alle 12.45 ricordo l'appuntamento questa sera ore 19 nella chiesa di Rupinaro di San Giacomo di Rupinaro a Chiaveri per la celebrazione dei 33 anni di Teleradio Pace vi do appuntamento chiaramente anche domattina 7.30 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti di San Giacomo di Rupinaro